Sulla scia dei più grandi giochi e quiz televisivi è partito oggi anche a potenza un'originale attività didattica. Si chiama High School Game ed è la grande sfida culturale tra le migliori scuole d'Italia. A cimentarsi nella gara anche gli studenti dell'Istituto Nitti, del capoluogo di regione. Emergeranno le classi più preparate e sarà occasione di socializzazione tra ragazzi coetanei provenienti da diverse regioni italiane. È un quiz game didattico rivolto agli alunni dei 17 e 19 anni, delle classi quarte e quinte di licei e istituti superiori di secondo grado pubblici e paritari di tutta Italia, ideato e organizzato da Planet Multimedia. Il concorso ha l'obiettivo di promuovere la cultura anche su temi specifici di interesse dei partner con le tecnologie interattive e multimediali. Ogni classe è una squadra, l'iscrizione è gratuita. La sfida consiste nel rispondere esattamente nel più breve tempo possibile ad una serie di domande sul proprio piano di studi, cultura generale, sport, attualità, curiosità sugli sponsor e altro ancora. In particolare viene offerta la possibilità alla scuola o ai partner di personalizzare il test con contenuti educativi su argomenti di specifico interesse come ad esempio per il comune ospitante, le bellezze e il territorio. Le finali provinciali, areali, regionali e la finalissima nazionale saranno ospitate in importanti location realizzate come eventi pubblici dove migliaia di persone potranno vivere un'esperienza unica ed indimenticabile. Per la Basilicata saranno impegnati nei Games 30 istituti scolastici tutti in provincia di Potenza con sfide. Cominciate oggi!